nella mia fotografia la relazione con il mio soggetto è un cardine imprescindibile quello che mi piace fare è con estrema presenza ascoltare e accogliere tutto ciò che il mio soggetto vuole rivelarmi una volta fatto questo insieme sempre al mio soggetto si crea uno percorso comune dove si va a costruire un sistema simbolico che possa sia in grado di rappresentare la sua essenza più profonda questo è in sintesi ciò che io intendo per il lavoro di ritratto ci sono anche dei risvolti sociali nel mio lavoro perché difficilmente lavoro con singoli individui molto spesso molto più spesso lavoro con piccoli gruppi di persone accomunate da storie simili io con loro inizio percorso di rappresentazione cerchiamo di mettere in campo con diverse strategie delle metafore dei percorsi semantici che possano rappresentarli al meglio costruiamo delle storie delle allegorie ecco il concetto di storie al plurale è un concetto un altro concetto cardine di ciò che faccio le storie contengono molto più un aspetto proiettivo rispetto che una che un aspetto tangibile la tangibilità del reale viene superata dalla proiezione interiore e questa dicotomia che in realtà è solo apparente è più presente di quanto si possa credere chiedere ai miei soggetti di esporre il loro corpo fisico il loro corpo emotivo il loro corpo mentale all'oscillazione di un'immagine è un rito veramente potente è molto potente poi vederlo ripetere nel gruppo ed è estremamente potente registrarlo ogni volta con l'obiettivo di una macchina fotografica questo a lavoro finito se il lavoro è stato condotto con perizia dovrebbe scuotere anche chi vede l'intero processo che fruisce dell'intero processo in una relazione di riverbero in un'onda lunga che passa dal soggetto che ha prodotto l'oscillazione sino a chi guarda l'immagine prodotta da quell'oscillazione e ne è a sua volta scosso emotivamente questo è un po il senso del lavoro di ritratto o del mio lavoro di ritratto